Buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieta Notizie. Oggi, giovedì 7 novembre, stiamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud che titola I professionisti dell'Andrangheta, Direzione Nazionale Antimafia e Guardia di Finanza hanno smascherato il patto scelerato a Cosche e Colletti Bianchi, 3,47 arrestati, un avvocato e tre commercialisti, sequestrato un patrimonio di 90 milioni di euro. Gioia Tauro, 6 rom ridotti in schiavitù da nonna, zia e madre, la scoperta durante un controllo dei carabinieri. Orrore a Gioia Tauro, 6 ragazzi segregati in casa, 4 sono minori, li hanno scoperti i carabinieri, madre, zia e nonna arrestate e accusate di sequestro di persona e riduzione in schiavitù. Vivo per miracolo il cognato di Giuseppe Esce, il bracciante agricolo Carmelo Costantino rimasto gravemente ferito dallo scoppio di una bomba quando ha aperto il cancello della sua proprietà. sopra loro è accurata e ripetuta degli investigatori sul luogo dell'attentato, incontrata Carmine. Gioia Tauro, l'assessore Carmelo Riotto, ritorna all'antico gruppo, a breve la riunione del Consiglio Comunale. Mellicucco, chiuso il corso per mediatori interculturali, ora la palla passa a tutti gli enti coinvolti. L'incontro di Dedalo con Emidea per creare uno sbocco occupazionale. Seminara, il temuto punterolo rosso è sbarcato anche a Seminara, aggredita la Palma nella piazza principale. Sono già intervenuti i tecnici. Fondo pagina, Oppidomo Amertina ricordando Vincenzo Vadalà, la sua vita è stata riscoperta a Milano e a Palmi. 200 studenti seminano in laboratorio. L'Istituto Agrario ha promosso un percorso formativo per sensibilizzare i giovani. A Villa San Giovanni e Seminara continuano l'indignazione. Sono responsabili pure i comuni solidali. Ovviamente stiamo parlando della lotta degli LSU e degli LPU 57, gli scioperanti dei due centri. I dipendenti denunciano le gravi inadempienze degli enti locali che sbandierano vicinanza ai manifestanti. Rosarno, il nuovo grido di battaglia di Rocco Pronestì, protestino anche i sindaci. E a Torianova, Condello, a muso duro contro la Regione. Conviene lasciare i lavoratori ricattabili. Porto di Gioia, sciopero di domani, i lavoratori si dividono. I sindacati confederali per tutta la giornata di ieri hanno tenuto assemblee, confermando la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto. Il SUL si dissocia e non aderisce. Protesta opportuna. Ora che aumentano i volumi e rientra MERSC, questa l'interrogativo del SUL. MCT ve legge verso l'ottimismo. Gioia, infrastruttura di eccellenza. La società di gestione dà i numeri e i voti allo scalo. Rizziconi, sicurezza e decoro, una iniziativa di Colosi. E a Rosarno la stazione migliora, ma lo svincolo scatena ancora tante polemiche. La denuncia è quella della giovane Italia. La Spromonte ospita il turismo scolastico. Santo Stefano, San Giorgio Morgeto, Opidoma Mertina e Molocchio le mete privilegiate. E passiamo alle pagine dell'Ora della Calabria. Anche qui ovviamente la notizia d'apertura è quella dell'operazione di ieri a Reggio Calabria. Professionisti corrotti in affari con le cosche. La notizia è a tutta pagina. Così le endrine controllavano le delizie a Reggio. 47 le persone finite agli arresti. 17 gli indagati. La storia di Gioia Tauro, dei Rom segregati e all'interno della fotonotizia a centro pagina. Segregati in casa in condizioni disumane. Sei ragazzini trovati dai carabinieri rinchiusi in una stanza. Li lasciavano uscire solo per andare a mendicare. Sei ragazzini reclusi in una stanza. Orrore nel quartiere Rom di Gioia Tauro. Un disabile tra i giovani prigionieri in manette. La madre, la nonna, la zia. Presunte a guzzine dei segregati. Macchina burocratica lenta. Altri ritardi sui nuovi ospedali. La data di consegna slitta ancora di un anno. Cioè al dicembre 2016. Le novità nel capitolo dedicato alla sanità allegato al DPFR. A rallentare l'iter dei nuovi presidi. Anche l'ex governo Monti. I quattro presidi a carattere regionale. Cioè quelli della Piana di Gioia Tauro. Della Siberitide. Di Vibo Valenza. Di Catanzaro. Avranno comunque ancora. Uno slittamento sull'avvio dei lavori. Piana, Oppido, Indagati, Sindaco e Assessore. Barillaro e Verducci. Accusati di abuso d'ufficio insieme a tecnici e imprenditori. In principio l'antimafia sospettava collegamenti con l'Andrangheta. L'indagine si riferisce a un lavoro pubblico. Assegnato al cognato di Verducci. L'intervento clangallico preoccupa il silenzio della politica e della società civile. L'intervento è di Enzo Infantino del gruppo sinistra per Palmi. Porto è ancora scontro tra i confederali e il SUL. CGL e Cisleguil pronti allo sciopero. Contrari gli autonomi. Sciopero nazionale sul nuovo contratto. Assemblea in corso per i confederali. Ma il SUL invita i lavoratori a non partecipare. Con un volantino la canale della CGL. Dice ottenuto il passaggio da 10 a 15 minuti. Di pausa pasto. Cozza del SUL. Dice nessuna conquista. Era già nel contratto nazionale. Infine la posizione dell'azienda. MCT difende il suo operato. A breve traffici in aumento. Bagalà dice. Le nuove toccate previste dimostrano che l'infrastruttura è eccellente. Palmi, PRU presentato alla regione il nuovo progetto. La variante ha incassato il parere favorevole del dipartimento. Lavori pubblici, pace e la nostra priorità rimane risanare il quartiere Pille. Città nuova tre giorni per studiare e conoscere il territorio. E a fondo pagina. Rosarno, tesseramento negato. PD nel caos. Dagata, Borgese e Giovinazzo, estromessi all'assemblea. La segretaria Mancuso avrebbe negato il rinnovamento della tessera. L'Aragone suona per le forze armate. L'orchestra di Loriana. Napoli, Teama, di Catanzaro per il 4 novembre. I ragazzi del maestro Managò hanno salutato il loro generale Adelmo Lusi. A fondo pagina San Giorgio Morgetto, lente a sostegno della Florimo. L'amministrazione si è impegnata per ricomporre la banda cittadina. Il comune ha devoluto 900 euro utili a riavviare le attività musicali. E chiudiamo la nostra rassegna sfogliando le pagine del quotidiano. Anche qui ovviamente il titolo a tutta pagina è dedicato all'inchiesta di Reggio Calabria. Manette alla borghesia mafiosa. L'inchiesta della procura distrettuale sulla gestione di parte del mercato dell'edilizia. Economia inquinata in 47 nella rete della finanza. Tra loro molti colletti bianchi. Gioia Tauro, bimbi segregati nel campo Rom. Mamma arrestata. Bimbi adolescenti segregati tra escrementi e rifiuti. Orrore nel quartiere Rom. A Gioia mamma e nonna in manette. Rosarno, chi ha messo la bomba, voleva uccidere la vendetta contro Giuseppina Pesce. E ancora un approfondimento sulla notizia dei Rom. Trovate i segregati a Gioia Tauro. Cercavano armi. Trovato l'orrore. Un'operazione dei carabinieri nel quartiere Ciambra porta alla luce una realtà familiare drammatica. Sei bimbi segregati. Il plauso del sindaco dei gioia militari. E' bellofiora dichiarato presenza preziosa. SOS Tumori, città vivibile in campo. Il movimento presieduto da Zagarella teme un'altra taranto e sollecita le autorità. Davanti a questo problema bisogna mettere da parte le divisioni politiche. Sciopero al porto di Gioia Tauro. Il SUL si smarca dai confederali. Procedono le assemblee sindacali in vista della mobilitazione. Nessuna operazione e purazione in casa PD. Intanto ci scusiamo, c'è qualche problema a visualizzare questa pagina. Vediamo se riusciamo a recuperare almeno uno degli articoli. Oggi lo facciamo con quello che riguarda il congresso di Gioia Tauro del Partito Democratico e le dichiarazioni del neosegretario Francesco Ierace. Democrat parte l'era Ierace. Questo è l'anno zero. Il giovane gioiese, a capo della locale sezione, punta sul contatto col territorio e su una sede funzionale. Nell'intervista di Alessandro Trebodi, il giovane segretario parla della soluzione unitaria che ha portato appunto alla sua elezione. Era questa l'ultima notizia di oggi. Piena stampa torna domattina alle 8.30, come sempre, subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.